La disponibilità del Governo regionale a riaprire le terme di Sciacca, lo abbiamo sentito tutti questa mattina il Presidente della Regione dire che entro questa legislatura lui vorrà portare a casa questo risultato, riaprire le terme di Sciacca e 10 Reale. Ne abbiamo parlato in questi giorni, ho informato il Presidente della Regione della manifestazione che ci sarà mercoledì su Sciacca proprio su questo tema, l'ho detto all'assessore Falcone che poi è l'assessore all'economia, entrambi sia il Presidente della Regione che l'assessore Falcone convergono e convengono su questo punto. Stanno lavorando ad un progetto che presenteranno a breve proprio per recuperare somme, per poter portare alla produzione nuovamente le terme e ovviamente destinarle poi, la destinazione sarà forse un privato però intanto l'impegno del Governo regionale c'è e c'è a 360 gradi.